Se volete cancellare per sempre la cartella Windows.old è possibile eliminarla attraverso il disco locale C. Quindi in questo caso questa cartella qua è la versione precedente di Windows, quindi in caso tu vorresti fare un ripristino, ti può tornare anche indietro, quindi alla vecchia versione, questa cartella ti può servire. Se invece sei passata alla nuova versione e quindi stai benissimo, possiamo eliminare per sempre questa cartella. Questa cartella mi pesa 55 giga, quindi devo eliminarla. In questo caso andiamo direttamente a scrivere qua sopra pulizia disco, unità C. Ora si elimina direttamente qua sopra, quindi in questo caso vai su pulizia file di sistema. Direzionare i dati a pulire, mettiamo C, fai OK e aspetta così il calcolo in corso. Quindi ecco qua la cartella e tutti. Come puoi vedere questa è la pulizia di Windows Update, questa qua non la cancello perché tutti gli aggiornamenti che ho installato sul computer. Facendo fino a giù, fino a trovare, così la cartella Windows.old ed eccola qua. 55 giga e faccio OK. E mi azione file. Se si puliscono le installazioni precedenti di Windows, o i file temporali di installazione, non sarà possibile ripristinare la versione precedente di Windows nel computer. Quindi io faccio continuo perché non tornerò mai indietro. Se devo installare di nuovo da capo, vado su Windows, Microsoft e scarico di nuovo Windows 11. Abbiamo eliminato così la cartella di Windows.old. Se vado su questo PC ho recuperato anche un po' di spazio. E adesso la cartella non c'è più. Quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.